Siamo qua perché l'artista, la nostra Ange Borowski, l'artista che è in collaborazione con noi, ama Italia e il rinascimento italiano, inspira la tradizione, i vostri simboli, la vostra storia, la vostra storia di pietrice, la vostra cultura, questo è molto affascinato. Noi siamo tutti innamorati della vostra cultura, siamo molto collegati per questo, è interessante, voi siete fortunati perché noi conosciamo questo solo con libri, sono con teoria, voi avete questo per i suoi occhi, questa roba straordinaria, siete fortunati.